Sto registrando Al tabellino Alessandro Alessandro Bene, bene, bene Allora la seconda macchina Sta andando bene così Dimmi Sì 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 Ah, voglia Ragazzi, ma dovete farlo con forza? Ecco Eh, va bene Ah, bene Perfetto In bolla non contene niente Eh Eh, sono grande Allora la 626 Bene, ok, lo dico Perfetto Perfetto Oh Perfetto 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 Perfetto